E' successa questa cosa così improvvisa, posso dire comunque che alla fine è andata bene perché per fortuna nessun bambino ha avuto nessun tipo di danno. Grazie all'intervento tempestivo e pronto dell'autista e dell'assistente che appena si sono accorti che nel pulmino c'era un po' di fumo hanno subito fatto evacuare i bambini e quindi di questa cosa ne prendiamo atto per la loro efficienza. Il pulmino poi purtroppo è andato completamente distrutto perché le fiamme si sono propagate? Io mi sono recato subito sul posto alle 8.30 e ho visto che le fiamme ormai si erano divulgate in maniera molto forte e sono arrivati i vigili del fuoco. Certo il pulmino era un pulmino vecchio tant'è che noi già da maggio 2017 abbiamo fatto una delibera di giunta per attendere l'esito della regione Abruzzo circa un nuovo pulmino. Questo è esattamente il bando di maggio 2017 per avere un nuovo pulmino ma siete fermi a quella data? Non avete avuto nessuna risposta? Noi come comune abbiamo fatto quello che potevamo fare quindi la delibera numero 24 di giunta di maggio 2017 dove si chiedeva questo pulmino. E' certo che a volte i tempi della politica sono un po' lunghi e non sono consoni con le aspettative dei cittadini. Eravamo in attesa di avere questa risposta ad oggi purtroppo non l'abbiamo avuto e quindi abbiamo avuto questo danno. Certo è che il mezzo era vecchio, questo non lo posso nascondere ma le amministrazioni comunali comunque hanno anche bisogno di soldi. Soldi che oggi purtroppo arrivano sempre in ritardo e sempre in maniera minore. Per cui voglio dire non ce ne sono responsabilità di nessuno, ne abbiamo a ringraziare Dio che non è successo nulla né ai bimbi né agli esistenti. Fortunatamente come ricordava lei non è successo nulla a nessuno, il pulmino però è andato distrutto. Questo incidente che si è risolto fortunatamente bene potrebbe sbloccare almeno l'arrivo del pulmino nuovo? Ma dovrebbe sbloccare questo bando, questo bando PSR misura 741 e fermo in regione da diversi mesi. Io credo che se i soldi ci sono i bandi devono essere aperti. Speriamo che riusciamo a rientrare in questa gradatoria, altrimenti se non ci riusciamo farò il possibile per acquistarlo con i soldi del comune stesso. Però quello che a noi interessa oggi è una risposta, o ci danno questo pulmino riusciamo a vincere questo bando o altrimenti lo dicessero in maniera chiara e netta che provvederò con fonti propri a reperire le somme necessarie per l'acquisto del pulmino.